Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Gli ordini sono semplici Fate la guardia a questi campi e assicuratevi di proteggere le balle di fieno Vi parrà inutile Ma è un incarico vitale Ve lo assicuro E anche delle risorse più elementari non avranno i mezzi per resistere Saranno costretti ad arrestarsi Buongiorno Buongiorno Che mantello pizarro Un altro saltimbanco trovato C'è lui Scusi me ne vado Che sia un altro condottiero Già molti si sono messi in riga Hanno bisogno di vestiti Rifugio Calore E tutte queste cose Mi sento borbottare Pensate che quest'ordine sia una perdita di tempo Ma dovete capire che la nostra stessa esistenza dipende proprio da questo Non mi credete nemmeno Lasciate che mi spieghi Il fieno nutre i cavalli Ed essi in cambio spingono i carri Che trasportano le merci ai mercati delle altre città Perché vengano venduti E' così che l'economia prospera E poi c'è il bestiame Vacche e pecole hanno bisogno di fieno per sopravvivere E nel secco dei sapenti Ci danno ogni genere di merce Lama, carne, latte e altro ancora Dove si trovano? Si è chiaro adesso? Capite perché il fieno non deve cadere in mano nemica Per cui non trascurate il lavoro che state facendo E' vitale alla nostra causa Guardate che meraviglia questo anello Avresti lasciato morire di fame la tua gente E per cosa? Ha sopportato troppi insulti Per loro io ero un contadino sempliciotto Volevo il loro rispetto Di sicuro non hai il mio Per quanto sia penoso il trapasso Lieto sarà il tuo sonno Requiescati in pace Ora morirai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti